Si sta movimentando la campagna politica fanese in vista delle prossime elezioni amministrative, elezioni che saranno il prossimo anno. Nel centro-sinistra si muove in modo particolare Samuele Mascarin con le sue proposte. Intanto gli chiediamo come vede la situazione politica attuale. La situazione politica attuale mi pare particolarmente confusa un po' in tutti i campi della politica fanese. Da questo punto di vista io credo che sia importante non tanto l'iniziativa mia ma quella di tante donne e tanti uomini che in queste settimane si sono riuniti anche nelle piazze di questa città per fare una riflessione soprattutto dopo l'esito del voto nella città di Ancona, per fare una riflessione su quello che devono essere le priorità del campo progressista nella nostra città in vista delle elezioni amministrative del 2024. Il punto di convergenza di tutte queste sensibilità è quello che sia assolutamente urgente attivare un processo di partecipazione molto ampio che possa coinvolgere se possibile migliaia di cittadini e cittadini e ricreare nel centrosinistra e intorno al centrosinistra quell'entusiasmo, quella passione che in questo momento difetta. Per fare questo riteniamo che uno strumento, non l'unico, ma uno strumento importante siano le primarie ed è il motivo per cui a partire da oggi un gruppo di sottoscrittori lancia un appello, un appello alle forze del centrosinistra di questa città per convocare il prima possibile le elezioni primarie e fare in modo che per l'appunto i cittadini e le cittadine siano messi nella possibilità di poter parlare, discutere, affrontare e anche decidere i candidati e le idee migliori per affrontare le elezioni del 2024. Oggi è online un nuovo portale fanoprimarie.it, sarà possibile anche con questa piattaforma immateriale poter interagire con questa campagna e soprattutto sottoscrivere l'appello per la convocazione urgente delle primarie per Fano. Quindi la parola mascherin all'elettorato, ma in realtà però dentro il centrosinistra ci sono molte posizioni da ricomporre perché al momento ancora ci sono molte divisioni. Assolutamente sì, questa però è una peculiarità del centrosinistra non solo della nostra città, quello cioè di essere un campo plurale dove vivono prassi, sensibilità, a volte anche idee differenti. A maggior ragione le primarie per noi sono uno strumento per portare a sintesi questa diversità che sono anche una ricchezza e fare in modo che come è stato nel 2014 quando le primarie furono vinte da Massimo Seri che poi è stato sindaco per dieci anni ci sia un perimetro all'interno del quale possono ritrovarsi mondi diversi, migliaia di cittadini e cittadini, individuare il candidato o la candidata più popolare e più competitivo e con quello creare le condizioni per poter affrontare e vincere le elezioni amministrative del 2024.